Dal secondo libro di Maccabee In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che presi insieme alla loro madre furono costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine e proibite. Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria perché vedendo morire sette figli in un solo giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri piena di nobili sentimenti e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile. Diceva loro Non so come siate apparsi nel mio seno non io vi ho dato il respiro e la vita né io ho dato forma alle membri di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo che ha prasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi. Antioco credendoci disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno esortava il più giovane che era ancora vivo e non solo a parole ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole il re chiamata la madre la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo esortata a lungo e la accettò di persuadere il figlio chinatasi su di lui peffandosi del crudele tiranno disse nella lingua dei padri figlio abbi il pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi che ti ho allattato per tre anni ti ho allevato ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento ti scongiuro figlio contempla il cielo e la terra osserva quanto vi hai in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti tale è anche l'origine del genere umano non temere questo carnefice ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli accetta la morte perché io ti posso riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia mentre lei ancora parlava il giovane disse che aspettate non obbedisco al comando del re ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè tu però chi ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei non sfuggirai alle mani di Dio ci sazieremo Signore contemplando il tuo volto ascolta Signore la mia giusta causa sia attento al mio grido porgi l'orecchio alla mia preghiera sulle mie labbra non c'è inganno ci sazieremo Signore contemplando il tuo volto tieni saldi i miei passi sulle tue vie i miei piedi non vacilleranno io ti invoco poiché tu mi rispondi o Dio tendi a me l'orecchio ascolta le mie parole ci sazieremo Signore contemplando il tuo volto custodiscimi come pupilla degli occhi all'ombra delle tue ali nascondimi io nella giustizia contemplerò il tuo volto a risveglio mi sazierò della tua immagine ci sazieremo Signore contemplando il tuo volto dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro disse dunque un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare chiamati dieci dei suoi serbi consegnò loro dieci monete d'oro dicendo fatele fruttare fino al mio ritorno ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire non vogliamo che costui venga a regnare su di noi dopo aver ricevuto il titolo di re egli ritornò e fece chiamare quei serbi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato si presentò il primo e disse signore la tua moneta d'oro ne ha fruttate dieci gli disse bene servo buono poiché ti sei mostrato fedele nel poco ricevi il potere sopra dieci città poi si presentò il secondo e disse signore la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque anche a questo disse tu pure sarai a capo di cinque città venne poi anche un altro e disse signore ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto avevo paura di te che sei un uomo severo prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato gli rispose dalle tue stesse parole ti giudico servo malvagio sapevi che sono un uomo severo che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi disse poi ai presenti toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci gli risposero signore ne ha già dieci io vi dico a chi ha sarà dato invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re conduceteli qui e uccideteli davanti a me dette queste cose Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti